Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è 6 aprile 2023, altra giornata, altra escursione. Oggi vado alla ricerca di, indovinate? Una cascata, come le fanno? Ormai la mia passione per le cascate è nota. Oggi vado alla ricerca della cascata delle barche che si trova a Capricchia. Capricchia, piccola frazione di amatrice, rieti. Seguitemi perché nella mia avventura di oggi vi farò vedere dei posti meravigliosi. It's trying to turn back the clock To the days of old Back to the days when all the things we knew were made of gold si vede che ha nevigato ha nevigato la cascata delle barche adesso bisogna capire come raggiungerla la cascata delle barche adesso bisogna capire come raggiungerla quando la sicurezza non è mai troppa tu passi sotto una pianta una pianta semplice e all'improvviso che ci trovi questo coso affilato che se ti casca in testa come cazzo si regge là adesso qui si sente il rumore di una cascata però non è quella delle barche perché quella sta più avanti ah una piccola cascadina che carina anche io ho scoperto una cascata ma una scuola che bella che bella guardate che grotte nascoste però ci vuole la corda per scendere giù e tanta tanta forza lì sotto c'è un mondo da scoprire però corda e salute oggi no ed eccoci qui signore e signori la cascata delle barche grazie driving down nashville's back road sun is setting here in forest hills time is moving fast these days we slow down to catch a wreck take me home take me home where the whiskey hits right as I sink in my leather chair put old records on I am tired and I need to rest these bones to catch 65 or down franklin road doesn't matter long as we're heading life is chaos and feels so to catch a wreck to catch a wreck to catch a wreck to catch a wreck take me home take me home take me home where the whiskey hits right as I sink in my leather chair put old records on I am tired and I need to rest these bones take me home take me home take me home where the whiskey hits right as I sink in my leather chair putting old records on put old records on i am tired and I need to rest these bones wear these bones ci siamo versi dentro al bosco come cazzo fai senza gps la montagna è baluota il bosco è tremendo credo che il sentiero sia alla sopra sono sceso parecchio come cazzo fai senza gps come cazzo fai senza gps ogni tanto si sente un rumore e qua in mezzo non mi fido sparo un paio di colpi a questo punto del video ovvero alla fine vuol dire che il video è stato interessante e per me è una grande soddisfazione allora oggi ho fatto 9 chilometri 9 chilometri in 3 ore quasi 1000 calorie bruciate e ho visto la cascata delle barche poi ho visto quella piccola cascata un po' nascosta inaspettata che ho trovato grazie al fatto che mi sono perso nel bosco e spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo grazie mille alla prossima ciao grazie mille 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 grazie mille